SIGNOR EHRMANN 1 Sono Rosanna Maso Obermeier 2 C'è una lettera per noi 3 Papà ha scritto 4 Un telegramma 5 Non lo porto io, grazie 6 Mamma, papà ha scritto 7 Perché non posso leggerlo io? 8 Dai, dimmi che cosa dice 9 Sta tornando con la stella Il confine non l'ha inventato Dio Come il sole, gli alberi, le stelle Il confine l'hanno inventato gli uomini 1 2 1 1 Grazie a tutti.